Ho conosciuto Roberto grazie al passaparola, decido di vederlo dal vivo e in quel momento ho capito che avevo bisogno di una guida come lui, forte, deciso, concreto, molto focalizzato e davvero coinvolgente. In quel momento inizio a seguire i suoi consigli e un attimo, uno stato, un momento di crisi di quella che era la mia attività, si cambia, migliora e da lì decido di continuare a seguirlo, cosa che faccio tuttora con impegno e senza mai stancarmi.